Americanista, facciamo il punto sulla corsa americana a 17 giorni dal voto. C'è stato ieri sera americana un dibattito a distanza tra Joe Biden e Donald Trump, in due town hall meeting molto distanti tra loro. Il giudizio il giorno dopo, sulla stampa americana ma non solo, è che Biden ha avuto una buona performance, molto classica, molto in linea con il suo personaggio. Altrettanto si può dire con Donald Trump, che ha avuto una performance molto all'attacco e che ha fatto molto discutere. Tu hai avuto modo di seguire le cose, o comunque qual è la tua idea di questi strani dibattiti a distanza, mentre ovviamente determinati da Covid, ma anche dal comportamento che ha avuto Trump rispetto a Covid, e più in generale cosa pensi a questo punto della campagna elettorale e della corsa? Mi pare che il dibattito a distanza della notte passata sia diverso dal precedente, molto diverso dal precedente e da tutto il resto, per due ragioni. La prima ragione è che Trump non ha avuto l'occasione di attaccare, interrompere e usare la sua aggressività nei confronti dell'interlocutore, cosa che appartiene alla sua natura e alla sua natura di personaggio da show televisivo. In secondo luogo, quello che ha messo in difficoltà Trump è stata la novità sia di una conduttrice molto aggressiva, che ha fatto il mestiere che dovrebbero sempre fare i giornalisti, sia anche di trovarsi di fronte a un pubblico che non era soltanto un pubblico usannante, ma anche un pubblico che faceva delle domande, che quindi in presenza di una conduttrice che chiedeva di rispondere a queste domande si è trovato in imbarazzo. Quindi questo conferma che cosa? Conferma che in fondo Trump è un personaggio che funziona molto bene se è lasciato da solo, se può scatenare tutta la sua aggressività rispetto agli interlocutori, siano essi i suoi dipendenti, i suoi collaboratori o i suoi avversari politici, ma che non riesce ad essere all'altezza di un confronto minimamente politico su degli argomenti. Quindi questo dovrebbe aver portato altri qualche punto a favore di Biden, anche se tutta la questione del voto preventivo, del voto per posta, delle dichiarazioni che Trump e i suoi collaboratori fanno, lasciano intendere che ci sono dei fantasmi che aleggiano intorno a queste elezioni. Noi non possiamo considerare queste elezioni come tutte le altre elezioni. Francamente anche i sondaggi che danno Biden nazionalmente, diciamo di dieci punti avanti e anche avanti negli stati in bilico, non sono rassicuranti perché le modalità di voto di queste elezioni e le modalità di quelli che controllano lo scrutinio del voto sono assolutamente nuovi rispetto a tutti i quadrienni precedenti. D'accordo. Senti, tu sei autore di un libro che tra l'altro la nostra rivista ha recensito molto bene per l'ottimo Marco Micheli, il titolo è Il genio americano, sconfiggere Trump e la pandemia globale. Ecco, il genio americano vedi anche in questa circostanza, diciamo in questo ultimo scorcio di campagna elettorale, un po' la tesi anche di fondo del tuo ragionamento, di una particolarità americana che comunque può reggere, cioè una sorta di eccezionalismo forse possiamo chiamarlo americano, che può reggere a una dura prova come quella di un presidente come Trump che si ripresenta anche di nuovo come candidato in maniera, come direbbe anche l'economist, come un sovversivo, uno che soverte proprio l'ordine che noi siamo abituati, il mondo è abituato a vedere negli Stati Uniti. Quello che cerco di dire nei capitoli conclusivi di questo libro è che Trump ha rappresentato una rottura rispetto alla tradizione della democrazia americana che è stata declinata di volta in volta in senso conservatore o in senso riformatore, indipendentemente dai partiti, indipendentemente dai presidenti e che per esempio sul piano internazionale di volta in volta ha accentuato il carattere della forza militare o quello del diritto come regola internazionale. Trump ha rappresentato sicuramente a mio avviso una rottura, ma io dico anche, azzardo anche un'altra ipotesi, che la rottura rappresentata da Trump è valsa in questo quadriennio in una serie di atti politici molto chiari, l'accentuazione dello scontro tra bianchi e neri, il problema degli immigrati, il problema del suprematismo bianco, il problema della questione dell'isolamento degli Stati Uniti rispetto alle istituzioni multinazionali e via di sì, potremmo andare avanti. che però non c'è stata nessuna trasformazione diciamo così istituzionale di fondo, ad eccezione di una che proprio in questo ultimo periodo può diventare cruciale, vale a dire il cambiamento di equilibri all'interno della Corte Suprema, perché questo è l'unico dato veramente strutturale che può permanere al di là del quadriennio se verrà eletto il candidato democratico. Se verrà eletto il candidato democratico il corso americano riprenderà il suo mestiere, più o meno, diciamo sia in termini economici, sia in termini politici, sia anche in termini sociali, anzi probabilmente in termini sociali dopo il Covid ci sarà un'accenturazione sul lato del welfare come in una certa maniera fece Johnson negli anni 60, quando Johnson fu il presidente internazionale e fece però il presidente più intelligente, più bravo sul piano del welfare interno con la guerra e la povertà, con le due leggi sulla sanità pubblica, eccetera, eccetera. Io penso che Biden, se sarà eletto, riprenderà un po' quella vecchia linea democratica di accentuare il welfare, soprattutto dopo le prove che ci sono state nell'ultimo anno. C'è tuttavia il problema della Corte Suprema, che rimarrà e rimarrà con un'accentuata maggioranza di carattere iperconservatrice e con i tre candidati, i tre giudici supremi nominati da Trump che resteranno in carica per moltissimo tempo. C'è un precedente, ci dobbiamo ricordare, e non a caso lo ricordo, fu quello di Roosevelt, perché anche Roosevelt nel primo mandato, dal 32 al 36, trovò un'opposizione feroce da parte della Corte Suprema, opposizione che riuscì a vincere quando minacciò con una legge di aumentare il numero dei giudici supremi, portarli da nove, aumentare il numero e quindi cambiare gli equilibri interni attraverso questo meccanismo. Mi pare che anche questa volta la parte più radicale dei democratici abbia detto che occorrerebbe aumentare il numero dei giudici. Io non so se è una dichiarazione opportuna in questo momento. Sicuramente quella è una strada. La strada che minacciò Roosevelt portò nel 1936 sostanzialmente a un cambiamento di atteggiamento della Corte Suprema che cominciò ad accettare tutte le riforme che riguardavano il lavoro, i rapporti con i sindacati, eccetera, e quindi le cose andarono avanti e man mano diventarono sempre più favorevoli una visione, diciamo, riformatrice della Corte Suprema poi con le grandi presidenze che hanno portato a tutte le importanti decisioni nei primi vent'anni del dopoguerra sui diritti civili. Questo è quello che rimarrà. Quindi, per rispondere alla tua questione, se vedo che il genio americano, chiamiamolo la democrazia liberale americana, ha mantenuto la sua forza, bene, se Trump sarà sconfitto, la democrazia liberale americana riprenderà il suo vigore. Se Trump avrà un secondo mandato, io temo che ci saranno anche delle trasformazioni istituzionali profonde che cambieranno il regime americano. Ecco, ci fermiamo qui per questa prima parte della nostra conversazione che riprenderemo tra poco.